Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 marzo. Ho perso il conto, come spesso avviene ovviamente quando si sta in quarantena dal primo marzo, insomma non dal primo marzo, dal primo marzo è da quando non vedo mia moglie e miei figli, in realtà dal cumpleanno di mio figlio. Insomma, da quando si sta un po' troppo a casa uno perde il senso dei giorni. Comunque oggi è il 19 marzo. Prima di iniziare questa rassegna stampa, siccome mi iscrivete tantissimi, vi ringrazio sempre per la mia guarigione, tutto quello che volete voi, e per le medicine ormai ho fatto un video, quindi lo potete vedere su come mi sono curato, nessuna cosa particolare. Però io, molti di voi mi scrivono, Nicola cosa pensi e cosa stai dicendo in questi giorni contro il fatto di rimanere a casa? Allora ragazzi, vorrei che fosse chiaro a tutti quanti voi una cosa fondamentale. Per quanto mi riguarda, se c'è una legge, si rispetta la legge. Però, per quanto mi riguarda, si può continuare a dire quello che si pensa in maniera molto libera con tutti quanti voi che mi seguite ogni mattina. Quindi io posso essere contrario, non so, alla legge che prevede 12 anni di galera per l'uscita di casa. Ma non esco di casa, perché fino a che c'è una legge io la rispetto, perché questa è la differenza tra un liberale e un comunista. Il liberale può avere allergie nei confronti dello Stato, si batte fino alla morte contro le regole che considera sbagliate, però le rispetta. Quindi vorrei, comunque il podcast c'è già Giovanni, lo trovate su tutti quanti i sistemi di podcast della Zuppa di Varo, quindi vorrei fare questa precisazione. A tutti i ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani che mi seguono, accendete il vostro cervello, fate qualche canzoncina in meno sui balconi che non servono assolutamente nulla, forse qualche partita in meno di Fortnite che sta ingolfando l'utilizzo della rete, leggetevi qualche libro in più, leggetevelo anche sull'iPhone, sull'iBook, su quello che cacchio volete voi, ma permettetemi di dire quello che penso e non trasgredite le norme, perché le norme sono fatte per essere rispettate. Cosa succede sui giornali? Dopo questo pippozzo che vi ho fatto, molto semplice, blocco totale! Il Corriere della Sera è il più ansiogeno di tutti, è quello che ci vuole tutti chiusi in casa per i prossimi sei mesi. Loro chiusi a via Solferino, qualcuno di loro farà lo smart working, altra gigantesca campagna stupenda. Lo smart working, che per alcune aziende può anche servire, è un disastro. Possiamo avere il coraggio di dire che è un disastro lo smart working? Cioè, lo smart working può servire in poco tempo, per pochi casi, per poche situazioni, può servire per situazioni particolari, ma in sé un mondo fatto di smart working mi fa a me orrore! Ma comunque, Corriere della Sera, andrà avanti il blocco totale, limite agli orari degli alimentari, e ancora restrizioni anche dopo il picco! E poi, finalmente, Cassese, che ci racconta che cosa vuol dire coprifuoco. Perché io non ci pensavo mai. Questo è l'unico paese, insieme a quello di Pinochet e i colonnelli in Grecia, che si è inventato un coprifuoco tutto il giorno. Ma la parola coprifuoco, da dove dasce? Scusate l'ignoranza, però l'ho letta oggi nelle prime dieci righe del pezzo di Cassese, dal fatto di coprire i fuochi, per non dare possibilità al nemico di individuarci. Quindi stiamo parlando di guerra. Quindi è il coprifuoco dal senso della guerra. Una notazione che vi faccio, che notano, iniziano a notare alcuni, è che vorrei fare toc toc ai nostri politici coraggiosi, che chiedono a noi coraggio nello stare a casa, alla Lamorgese, dovete essere coraggiosi, eccetera, ma chiedono a se stessi e danno a se stessi molto poco coraggio, perché se la fanno sotto nel prendersi il virus, non capendo che se ti prendi il virus nell'85% dei casi lo prendi come me, cioè lo risolvi, ma loro se la fanno sotto, se c'è un momento in cui deve funzionare il Parlamento, lo dice bene De Robertis oggi sul quotidiano nazionale, è questo. Il Parlamento deve servire ora, perché io voglio parlamentari che vincolino il governo, che controllino il governo, non voglio essere sotto il tacco delle decisioni, dei decreti di Casalino e di Conte. Potrebbero anche essere Bertolaso e Berlusconi, non me ne fotte nulla. Il Parlamento deve funzionare, dice giustamente De Robertis, e io sono perfettamente d'accordo con lui. Funziona perché controlla. E si lamentano perché Salvini non ha adottato la procedura semplificata per questo decreto fiscale. E ha fatto bene, perché questo decreto fiscale è pieno di minchiate, tra poco le vedremo. Diamanti oggi su Repubblica dice che il Conte sta avendo un grandissimo successo di consenso popolare, me ne occorgo anch'io che molti di voi sono per Conte, benissimo, io no, trovo che la gestione sia stata il peggio assoluto, trovo che i numeri dicano questa cosa, trovo che per fare un ospedale della protezione civile e ci abbiamo messo due settimane a Milano quando si sarebbe dovuto iniziare una settimana fa, perché Conte, Casalino e tutti la sua compagnia di fenomeni si sono solo occupati di cambiare la scrivania di Palazzo Chigi e renderla trasparente per essere più fichi in questo momento, cioè io vorrei ancora avere la possibilità di criticare l'operato del governo finché mi è data, ma gli italiani piace e gli italiani quindi comandano e quando usciranno e potranno votare, se gli sarà permesso di votare, il francese è stato permesso e gli italiani no, voteranno per Conte, beati loro. Becchis è fantastico, perché oggi sul tempo è l'unico che prova a dire un po' le cose come le penso io, cioè siamo finiti nelle vite degli altri, quel film sulla Germania dell'Est in cui siamo tutti controllati e ci siamo ficcati in questo sistema tirannico, autoficcati nel sistema tirannico in maniera volontaria, tutti in silenzio. Tra l'altro si è fatta molto polemica ieri su quelli che i 45.000 che erano scappati dalle loro case, che avevano fatto la loro visitina, che erano usciti con il cane, come se fossero dei criminali, per me non sono dei criminali, va bene? Non si deve uscire, ma non sono dei criminali. Ma la cosa che nota Mattia Feltri oggi sulla stampa è molto semplice, e cioè dice cavolo, ma vuol dire che il 95% ha seguito tutte le direttive di questo governo e quindi se in tutte le leggi italiane, sul fisco, sulle norme della burocrazia assurde, sulla convivenza civile, beh, tutti seguissero il 95% delle leggi e solo il 5% trasgredisse, saremmo il paese più libero, più rispettoso delle regole del mondo. Quindi noi stiamo criminalizzando questi qui, mentre dice guardiamo il dito, invece che la luna, dice Feltri, quanto stiamo rispettando le regole in questo momento, perché adesso ci dobbiamo raccontare che non rispettiamo le regole. Certo! Perché se noi non diciamo che c'è l'italiano che non rispetta le regole, non possiamo cercare di capire per quale diamine di motivo questo è il paese al mondo che ha più morti e più contagiati. Colpa degli italiani che non rispettano le regole. Ma poi ti fa vedere Mattia Feltri che in realtà siamo il popolo che sta rispettando questa regola più di tutti gli altri casi, cosa succede se non è colpa degli italiani che non rispettano le regole? Forse è il caso che queste regole non siano state fatte così bene. Mi chiamano l'altro giorno, mi mandano un sacco di mail per dire dalla Calabria, dove non risulta nulla, impare che siano già pieni, rasi come dicono a Milano, di coronavirus e di terapie intensive dove c'hanno tre, tre terapie intensive in quel posto lì. Se fosse lì, quando e come arriverà nel sud Italia vedremo cosa comporterà questo sistema. Modello cinese, i dubbi sul modello cinese li porta Daniele Ranieri oggi sul foglio perché stanno ritornando dei, come si dice, dei contagiati, perché lì hanno isolato in una parte ma c'è un miliardo di persone e vai a fidarti dei dati, dei numeri, dei controlli cinesi. E se ci fosse una seconda ondata in Cina vorrebbe dire semplicemente che possiamo chiudere per sempre la Cina, possiamo chiudere per sempre le nostre case, per sempre i nostri lavori. Possiamo farlo? Possiamo davvero farlo? Beh, fantastica la BCE e io mi chiedo e vi chiedo a voi oggi i giornali dicono che la signora Lagarde farà un quantitative easing da 750 miliardi, una cosa enorme. Ieri ho parlato con un grande amministratore di una grande società che mi ha detto Nicola, non ti preoccupare per il fatto che ci scaleranno le aziende italiane sono tutte messe male quindi nessuno è in grado di scalare nulla oggi. Però c'è bisogno che la BCE faccia. Oggi in effetti la BCE ha fatto 750 miliardi ma io mi chiedo toc toc Lagarde cosa è cambiato negli ultimi quattro giorni rispetto a quando dicevi che la BCE non si occupava dello spread e oggi invece fai un'operazione di quantitative easing da 750 miliardi straordinaria comprando addirittura diciamo obbligazioni non statali. Cosa è cambiato? Forse che la Germania e la Francia sono nella merda fino al collo? Forse questo è cambiato? E questo è il motivo per quale la BCE Centrale Europea rispetto a una settimana fa ha completamente cambiato idea? E perché i giornali oggi ve lo chiedo sinceramente perché non facciamo un'analisi sulla Lagarde? L'ha fatta Fubini devo dire nelle ultime settimane è stato onestissimo nelle sue scritture sul Corriere della Sera perché oggi qualcuno non mi spiega scusatemi ma la Banca Centrale Europea è la stessa che due o tre giorni fa diceva che non c'era bisogno cinque giorni fa diceva che non c'era bisogno di nulla e oggi fa 750 miliardi siamo completamente folli il decreto fiscale più lo leggi e più vedi che è una ciofeca io vi dico soltanto due cose le ho prese dal sole 24 ore di oggi per dare la cassa integrazione è una specie di procedura incredibile e sapete cosa ci vuole per la cassa integrazione? bisogna fare l'accordo con i sindacati cioè hanno messo una norma per cui per fare la cassa integrazione ci vuole l'accordo con i sindacati non la semplice comunicazione ai sindacati guardate devo mettere in cassa integrazione l'accordo in via telematica questi sono dei drogati cioè pur di dare una mano ai sindacati che votano quanto è bravo questo governo quanto è bravo Conte quanto è bravo Casalino e il grande fratello beh c'è questa norma per cui le imprese gli hanno detto che possono mettere in cassa integrazione dal 23 febbraio cioè retroattivamente perché molte già l'hanno fatto ma ci vuole un preventivo accordo con i sindacati quindi tu li permetti di mettere in cassa integrazione dal 23 febbraio ma vuoi un preventivo accordo che non ci può essere il comma 22 questi li dovresti prendere a calci nel culo il burocrate che ha scritto questa cosa qua lo devi prendere a calci nel culo sulla cassa integrazione ma vi è chiaro i 600 euro per i 600 euro per gli autonomi che non sono tutti gli autonomi una gran parte degli autonomi ma non tutti non quelli scritti agli ordini professionali perché se sei un commercialista se sei un geologo se sei un biologo se sei un giornalista se sei un avvocato se sei considerato un ricco quindi i 600 euro non te li meriti pensando che sono tutti ricchi beh la cosa straordinaria sapete cosa faranno un click day cioè ci daranno un pin dell'inps oppure devi avere il pin dell'inps e dovrai partecipare un giorno per la mancia di 600 euro secondo voi secondo voi questa che cos'è secondo voi questa non è non la costituzione octro aie dell'ottocento cioè il sovrano che ti dava la costituzione per cui noi liberali ci battavamo questo è il sovrano medievale ci considerano delle merde dobbiamo metterci davanti al computer fare l'autocertificazione per uscire andare a fare la spesa quando ce lo dicono loro senza comprare alcuni generi che loro non ci dicono ci danno una mancetta da 600 euro che sono soldi nostri e questi 600 euro dobbiamo metterci in fila all'inps telematica con il pin il contropin e farlo in un click day ragazzi ma quando ci dovremo liberare cioè quando arriveremo a prendere per la collottola tridico e spiegargli tridico tu me li devi dare se me li vuoi dare questi soldi in maniera semplice facile automatica il sessantenne che sta a Caltanisetta o a Rò che ha chiuso la sua attività e che la chiuderà per i prossimi sei mesi già non gli servono niente questi soldi ma vi rendete conto che mi fanno fare il click day ma per chi ci avete preso neanche gli schiavi neanche i servi della gleba per fortuna che c'è Papa Francesco che si ispira a Fazio e per fortuna che oggi Giordano e Gnocchi sul giornale sulla verità gli fanno un bel ritrattino al Papa che si iscrive a Fabio Fazio non più il Vangelo non più Gesù Cristo ma Fabio Fazio straordinario anche Boris chiude le scuole e devo dire che anche come nota il messaggero è una marcia indietro poi alla fine vi voglio fare il rapporto come fanno quelli della protezione civile voi sapete che in Italia muoiono ogni giorno 1700-1800 persone noi abbiamo inventato questa genialata Conte ma soprattutto Casalino il grande confezionale delle 18 come il capo della protezione civile snocciola il numero dei morti tanto per dare l'idea vi dovete stare a casa perché siete delinquenti fate il click day perché stanno morendo tante persone e alle 18 ve lo comunico Savonarola e alle 18 ci comunicano i morti poi però vai a vedere sull'istituto superiore della sanità che ieri c'è stato il numero di morti più alto in Italia e in Cina 475 in un giorno ma che solo lo 0,8% di questi morti deriva dal coronavirus e non da altre patologie allora l'emergenza c'è ma è negli ospedali e lì si deve non mi scordo e non mi dimenticherò mai di dirlo farsi un mazzo così tutto verso gli ospedali oggi ci sono 10 righe di eutecne sull'olette mi sembra su Italia Oggi in cui ci spiega che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui sui ventilatori quelli che servono da comprare gli ospedali c'è l'IVA al 22% nel resto del mondo è al 4% in Italia è al 22% questo è il nostro grande straordinario paese per cui il ministro Lamorgese dice che noi siamo molto responsabili e che ci saranno nuovi atti coraggiosi sapete qual è un atto coraggioso? ma lo devono fare 10 anni fa non oggi e magari pensare che i ventilatori sono degli presidi medici che non devi tassare per fare cassa ciao